Buongiorno, sono Eleonora di Ecology Runner e oggi ho l'immenso piacere di essere in vostra compagnia per presentarvi la nuova gamma di ResorCar e più precisamente vi parlerò del modello Giraffa. Giraffa ha una capacità di carico di ben 14 persone, è ideale per le grandi strutture ricettive, parchi naturali e di divertimento, si muove con la massima silenziosità e con assenza di emissioni inquinanti grazie al suo motore elettrico da 5 kW e da generose batterie che permettono una percorrenza di pensate ben 120 km. Gli investimenti standard delle nostre ResorCar sono stati studiati veramente al top e nei minimi dettagli per assicurare e garantire un elevato livello qualitativo e il massimo comfort per i vostri clienti. Venite con me, vi mostro alcuni particolari. Impianto stereo e impianto DVD completo di casse, una vera novità per i vostri clienti e garanzia di indiscussa immagine per la vostra azienda. Vi permetterà di proiettare pubblicità inerente alla vostra attività o di intrattenere la clientela facendole ascoltare buona musica, allettandone così il viaggio. Gomme stradali con cerchioni in lega di alluminio. Comodissimi portaoggetti per appoggiare riviste o quant'altro. Graziose tendine parasole, utili se non indispensabili nelle ore più calde della giornata, soprattutto per assicurare un piacevole e gradevole trasporto ai vostri clienti. Cruscotto multifunzione che permette all'operatore di avere sempre sott'occhio e sotto controllo tutti i parametri del veicolo. Infine, qualora lo desideriate, è disponibile a richiesta il cambio 4 rapporti, che permette di affrontare e superare con estrema facilità e rapidità ogni tipo di pendenza. Ringraziandovi per l'attenzione che mi avete prestato, vi ricordo che i nostri commerciali sono sempre a vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione di natura tecnica o richiesta di preventivo. Io invece vi do appuntamento alla prossima news. Un caloroso saluto a tutti da Eleonora di Ecology Runner. Ciao! Grazie a tutti!